Milano 2015 mi ha dato l'opportunità fondamentalmente poi di guardare Milano da un luogo privilegiato che è un luogo che è in qualche modo la città di Milano ma che è anche un osservatore solitario dal Corriere della Sera. Ho scelto di raccontare il Corriere perché fondamentalmente è un'eccellenza Milano italiana e Milano per me è eccellenza, in qualche modo credo che l'emozione che mi lega a questa città sia proprio la ricerca di essere sempre migliore, di riuscire ad arrivare in qualche modo ad una qualità per essere competitivi in questa città, una città che corre molto, una città produttiva, una città che ama chi c'è chi produce, chi collabora, chi partecipa anche nella vita sociale. Quindi l'eccellenza era proprio la prima cosa che quando mi hanno offerto questo lavoro mi è venuta in mente. Per me Milano che cos'è? Eccellenza e poi ho pensato al Corriere della Sera. Quindi da qui il mio episodio Sofferino 28.